buongiorno dal salone del libro edizione 2022 eccoci qui insieme a carlo pertusati autore di due libri scambio di doni e 50 piccole storie di chiese e divise entrambi sul cem sul tema dell'ecumenismo affrontato però con uno sguardo differente carlo iniziamo parlando di questa tua ultima pubblicazione piccole storie però ecco che compongono un unicum si possiamo dire che compongono addirittura in qualche modo un po tutta la storia della chiesa fin dalle origini fino arrivare ai nostri giorni in una sorta di racconti a episodi ma anche a momenti della storia queste chiese divise lo sono internamente o lo sono proprio in ragione di quest'unicum in cui tu le hai inserite si lo sono proprio nell'unicum possiamo dire del percorso della storia della chiesa perché nei primi secoli il cristianesimo nasce entrando nelle varie culture non c'è un'unica lingua un'unica nazione un'unica società che diventa cristiana ma il cristianesimo man mano che viene a contatto con diverse culture assume delle differenze queste differenze sono pacifiche fanno parte della ricchezza della chiesa ma a un certo punto dal quarto quinto secolo in poi cominciano a subentrare divisioni e nella storia purtroppo c'è proprio una sorta di appuntamento con successive divisioni tra le chiese se dobbiamo pensare infatti a chiese divise i primi nomi che ci vengono in mente sono proprio lutero valdesi riforma anche queste si incontrano nel tuo libro come le hai affrontate se diciamo che il tentativo è stato quello di affrontarle non in modo un po' scontato da parte cattolica o romano centrica ovviamente con tutto dovuto rispetto alla chiesa cattolica questo è chiaro ma partendo un po dall'esperienza soggettiva di chi ha cercato di proporre una riforma e senza avere l'intenzione di creare una spaccatura come è stato il caso di pietro valdo o come è stato anche il caso di martin lutero e quindi si cerca di avere un approccio più benevolo nei confronti delle varie esperienze di chiese ma le grandi divisioni nascono molti secoli prima già nel quinto secolo facciamo un esempio di nomi che conosciamo i copti o gli armeni al magari non conosciamo altre chiese che noi consideriamo un po più piccole e poi grande scisma del 1054 che fa chiamare a certo punto i cristiani o cattolici ortodossi e poi in occidente appunto la spaccatura tra mondo cattolico e mondo della riforma ecco sembra leggendo il tuo libro di fare proprio una grande carrellata di immergersi dentro la storia si va dal periodo antico al medioevo e poi si arriva fino a quelle divisioni che sono più moderne ci puoi magari parlare un attimo di queste che magari sono anche quelle più vicine a noi sì perché effettivamente più si viene in avanti più conosciamo anche l'esperienza personale dei riformatori o di chi comunque a un certo punto si è trovato a creare un'esperienza alternativa a quella della chiesa magari tradizionale a cui prima apparteneva allora possiamo pensare ai tempi recenti alle chiese pentecostali un fenomeno che nasce nel mondo della riforma poi diventa un po trasversale alle varie chiese tant'è che oggi noi sappiamo che esistono dei pentecostali che nascono dalle chiese ortodosse ma anche all'interno della chiesa cattolica ci sono dei movimenti che si rifanno al pentecostalismo cosa vuol dire la ricerca di ritrovare lo spirito delle origini ognuno però lo ricerca nel modo che ritiene migliore e non sempre le chiese della tradizione ritengono che queste riforme siano utili partendo dall'interno e spesso si creano tensioni come quella che da sempre attraverso la storia della chiesa tra le istituzioni spesso un po rigide ma necessarie e i carismi o le intuizioni di singole figure che non sempre riescono a mantenere un rapporto riconosciuto come ispirato da parte dell'istituzione ecco ancora una domanda su questo volume che peraltro è molto divulgativo è interessante può prendere fasce di lettori in modo molto trasversale tu hai fatto delle ricerche logicamente perché ci sono dati molto approfonditi ma butti anche un occhio molto attento a quel dialogo che si instaura proprio alla luce dell'ecumenismo riporti diversi avvenimenti diversi fatti storici diversi incontri importanti allora quale spazio può avere questo dialogo all'interno di una lettura che punta a descrivere anche quali sono le peculiarità di queste divisioni direi l'ultima riga che è anche sottotitolo della copertina in cerca di unità è importante perché più o meno un secolo fa nasce proprio un po in seno a moltissimi cristiani un po tutte le chiese il desiderio di ritrovare l'unità visibile e molti si spendono in questa direzione ci sono dei veri e propri pionieri di cui si descrive un po la storia qui si entra anche nel vivo delle esperienze personali sono le parti secondo me anche maggiormente interessanti e magari non così conosciute e allora nel secolo scorso e anche all'inizio di questo si sviluppano dei dialoghi profiqui a livello istituzionale ma anche a livello interpersonale l'ecumenismo è proprio questa ricerca dell'unità visibile verso la quale alla chiesa cattolica nei primi decenni pone dei veti e piuttosto scettica poi a partire dall'esperienza del concilio vaticano secondo ma già dalle intuizioni di papa giovanni ventitresimo si apre al dialogo ecumenico che deve diventare queste sono parole del concilio un'esperienza un impegno veramente di tutti i cristiani e direi finisco la parte su questo libro che è affascinante pensare che noi apparteniamo alla chiesa di cristo che le divisioni sono veramente incidenti della storia dovuti molto spesso a egoismi personali o a volte anche delle istituzioni ma in realtà come dice papa francesco la chiesa di cristo sempre rimasta una e noi possiamo vivere un'esperienza di appartenenza alla vera chiesa di cristo sopportando insieme a tutti gli altri il fatto di essere ancora divisi ma si può camminare insieme questo camminare insieme lo si deve fare c'è un principio che accenna ancora questo chiamato il principio di lund dove avvende un importante incontro di una delle commissioni ecumeniche internazionali dove si dice tutto quello che è possibile fare insieme lo dobbiamo fare insieme cioè quasi tutto tra cristiani direi che è un bellissimo messaggio di speranza ma vorrei ancora accennare a questo libro scambio di doni qua il cuore dell'argomento sono le vite dei martiri e dei santi sì diciamo che il secolo ventesimo segnato dai regimi totalitaristi e segnato dalla shoah dalle esperienze drammatiche dei gulag e di altri altre zone di sofferenze penso anche a lo serminio degli armeni ha fatto sì che tra le persone vive appartenenti a fedi diversi si creassero delle situazioni di comunione molto profonda a tutti i livelli compreso quello della fede se ti trovavi in un lagri in un gulag ed eri cristiano era secondario al fatto di appartenere a fedi diverse ecco quindi avviene veramente uno scambio a livello molto profondo tra i cristiani che stanno soffrendo alcuni di questi vengono anche indicati dalle chiese come persone che possono essere venerate per le chiese che hanno la venerazione dei santi e dei martiri e ci sono chiese che non hanno la venerazione dei martiri e dei santi ma li riconoscono come testimoni c'è un'espressione del libro dell'apocalisse che parla di nuve dei testimoni questo possiamo dire va oltre i dialoghi ecumenici ufficiali ci sono persone che hanno raggiunto una pienezza di vita cristiana così grande tanto da soffrire addirittura a morire per cristo che ci fanno dire che il sangue dei martiri come dice papa francesco è il seme dell'unità della chiesa grazie mille a carlo per tusati e a voi consiglio ancora di leggere scambio di doni e 50 piccole storie di chiese divise grazie carlo buona lettura